Mancano solo 5 chilometri per centrare il Guinness World Record di triathlon sulla lunga distanza, uno dei più duri da realizzare. È l'impresa mai provata prima a cui si sta avvicinando Tommaso Fusco, atleta di 22 anni, nato e cresciuto ad Arezzo con la passione per l'outdoor e gli sport di endurance. La sfida era stata annunciata lo scorso 14 maggio e da subito Tommaso ha potuto contare sul sostegno delle associazioni Lardita e Arezzo Gravel. Oltre all'impresa sportiva c'è anche quella sociale. Con indosso la maglia dell'ardita e il nome e i colori di Arezzo, il 22enne è anche diventato un social runner, aprendo online una raccolta fondi per sostenere il lavoro umanitario di Oxfam per portare acqua pulita alle comunità colpite dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo. Lo sforzo finale è in programma domenica 21 luglio al Parco Sandro Pertini di Arezzo a partire dalle 19.30.